2 anni, subito Livorno con Passoni che scarica il destro e trova la risposta di Secas la risposta della Fiorentina Savini mette dentro una gran palla, Riga no sbetta ma trova le mani di Maregini Livorno che preme di più, Goga lavora un ottimo pallone, Lucarelli brucia la difesa, viola ed è il vantaggio degli Amaranto ancora Lucarelli e ancora Maregini, una sfida bellissima tra loro due poi la palla dentro di Ferzel e il capolavoro di Igor Protti per il raddoppio del Livorno siamo nel secondo tempo, Chiellini per Ferzel che sciupa una grande occasione la Fiorentina sale in cattedra nella ripresa, il tiro di Graffiedi, la palla alta di poco poi episodio contestato, va a terra Viali nell'area del Livorno, Trefaloni fa correre Emiliano Mondonico non sembra molto d'accordo, sembra dire alla tv, ne parliamo dopo finisce comunque 2 a 0 per il Livorno